definizione di gufo per me gufo non è colui che parla male del governo renzi perché è assolutamente legittimo parla male del governo renzi talvolta mi capita anche a me quindi vi preoccupate gufo è colui il quale non crede nel fatto che l'italia abbia un futuro gufo è colui il quale dice tanto non ce la fa gufo colui il quale dice non ce l'ha mai fatta nessuno perché ci provano gufo è colui il quale dice il tempo dell'italia è il passato gufo è quello che avendo sbagliato tutte le previsioni sul futuro non accetta di guardare la realtà del presente per me il gufo è questo il gufo non è quello che parla male di renzi il gruppo è quello che parla male dell'italia e io l'italia a quelli che ne parlano male non la voglio lasciare di me possono dire tutto il contrario di tutto perché rivedete siamo fortunatamente l'articolo 21 della costituzione è un caposaldo di tutti noi però il fatto di scommettere sul fallimento dell'italia no io trovo degli editoriali che mi piacerebbe andare a rileggere fatti dalle stesse persone gli ultimi vent'anni trovo alcuni di noi politici e alcuni di voi giornalisti che sono convinti che le cose non possono cambiare io mi alzo la mattina perché penso che l'italia possa essere migliore poi sbaglierò ho tutti i miei limiti farò gli errori che devo fare ma ci provo metto tutta l'energia che ho perché questo paese faccia quello che deve fare nel mondo il gufo è quello che nega questa possibilità il gufo non è quello che nega la realtà il gufo è quello che nega la possibilità l'italia di farcela e io su questo continuo a dire che per me i gufi questo tipo di gufi qui ormai ci stanno simpatici e ci fanno compagnia sono gli stessi che dicevano nei giorni precedenti alla campagna elettorale grillo che sta davanti quindi io con i gufi ho un rapporto di 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 amicizia ormai portano bene però faccio di tutto perché l'italia avverta e viva questo senso della possibilità e della opportunità rispetto all'intervista di rocca che ho letto trovo che il 2015 sia un anno decisivo sono d'accordo non credo che sia un termine perentorio come lei ha detto ma termine sicuramente impegnativo 2015 l'anno chiave è il motivo per cui questo sano senso dell'urgenza che per qualcuno è mamma mia come tarantolato questo ragazzo non è un problema di essere tarantolati è un problema che c'è un senso dell'urgenza negli italiani c'è bisogno di far vedere che le cose si possono fare e per me il senso dell'urgenza non si misura sui 12 mesi che vengono ma sulle prossime 12 ore noi abbiamo una cornice molto definita abbiamo un disegno molto chiaro e stiamo mettendo i pezzettini io sono molto soddisfatto di come stanno andando i pezzettini del puzzle i tasselli del mosaico perché li stiamo mettendo come volevamo metterli nel disegno originario che avevamo però questo senso dell'urgenza si misura non in 12 mesi ma in 12 ore io voglio che neanche una giornata sia sprecata e se questo fa correre il rischio di apparire come persino bulimici dicevamo oggi perché alla fine non abbiamo fatto in tempo a godere di un risultato che subito ci sia andato un obiettivo nuovo non perdiamo neanche tempo a valorizzare dal punto di vista comunicativo i risultati fatti che già subito ci diamo una nuova sfida è perché abbiamo questo senso dell'urgenza quindi 12 mesi saranno decisivi sì non credo però che che l'italia sia spacciata come pensano alcuni gufi e non solo grazie a tutti